Cure Center Affrettati ti prego, i pigling sono in placabili Affrettati ti prego, i piglingi Affrettati ti prego, i piglingi Affrettati ti prego, i piglingi Affrettati ti prego Affrettati ti prego, i piglingi Affrettati ti prego, i piglingi Ecco il villaggio! Raggiungilo in fretta! Oh no! Quei mostriciattoli rosa devono essere fermati! Presto, presto! Devi sbarazzarti di tutti i piglin! Il lapislazuli fatto cadere dai piglin può essere usato per alimentare i tuoi generatori. Raccogli i lapislazuli per mantenere accesi i tuoi fuochi. Non dimenticare, costruisci dei generatori per evocare alleati che combatteranno al tuo fianco. Chioma eccolo, ellas rim rendono ger MO apexi', sono saltata da provoca perché mi da guardia Il pericolo è cessato, ma il villaggio è in rovina. I pigling hanno danneggiato la fontana. Una bottega del carpentiere riparerà le strutture nelle vicinanze. Metti al lavoro gli alleati per fartene costruire una. A presto! Ah, che sollievo! L'acqua ha ripreso a scorrere! I pigling stanno preparando un attacco contro un altro villaggio. Non c'è tempo da perdere. I suoi abitanti hanno bisogno di te. Ricorda, la mappa e la bussola ti indicheranno la strada. Non c'è tempo da perdere. Altre immagini nel pozzo. È il nostro eroe. Un altro villaggio, a quanto pare. E altre pigle. Vuoi ancora salvarli? Vai, sbregati! Ricordati di costruire quei generatori. devi sconfiggere i pigling che stanno attaccando il villaggio. Non possiamo permettergli di guadagnare terreno. I pigling sono spariti. Ti ringraziamo. Anche gli abitanti del villaggio vogliono ringraziarti. Vai alla cassa del villaggio ai piedi della fontana e troverai una sorpresa. Gli abitanti sono pacifici ma vogliono aiutare come possono. In segno di gratitudine puoi contare sulla loro ingegnosità per continuare a combattere. continueranno a raccogliere materiali per te mentre sei impegnato a salvare il mondo. I pigling si stanno radunando ai margini del villaggio. Penso che sia in arrivo un altro attacco. Meglio costruire le difese finché c'è tempo. Le torri delle frecce sarebbero perfette per difendere questo villaggio. Devi predisporre delle difese intorno al villaggio. Hai ancora un po' di tempo per raccogliere risorse se le stai esaurendo. Ma fai in fretta. I pigling sono vicini. Ricorda, anche i tuoi amici golem vogliono aiutarti. Stanno per arrivare. Oh, non posso guardare. I pigling sono arrivati. Preparati, eroe. Altri pigling in avvicinamento. I pigling attaccheranno da tutti i lati. Controlla la bussola per scoprire da dove arriveranno. Cosa. 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 Prima. Cosa. Cosa. Edo невelo lasciato.